La vicenda che ha travolto il consigliere comunale di Taurianova, Pino Falleti, ha avuto degli effetti importanti nella seduta del consiglio comunale che si è svolta ieri. Lo stesso esponente PD, con una comunicazione via PEC inviata al presidente del civico consesso, ha disertato la seduta in quanto, come ha scritto nella missiva, la mia presenza potrebbe creare problemi nel confronto politico, visto che si traccerà la Taurianova del domani. C'è da dire che questa presa di posizione è una diretta conseguenza di una riunione politica intercorsa nella serata precedente, durante la quale il sindaco Fabio Scionti ha chiesto all'ex capogruppo del PD di non presenziare in aula e di valutare la possibilità di dimettersi dai banchi della maggioranza. Questa non è un'aula di tribunale, ha dichiarato il primo cittadino, in un consiglio frastornato dalla brutta vicenda, e ringrazio Falleti, dice ancora, per la decisione presa. Si approva infatti un bilancio dopo il dissesto, ho invitato Falleti, sottolinea il primo cittadino, a dimettersi, deve essere libero di difendersi. Oggi evitiamo processi, ma questi fatti hanno toccato istituzioni e famiglie. Le reazioni della minoranza consigliare in merito al presunto invito effettuato dallo stesso Falleti, sulle lettere minatorie ricevute non si sono fatte attendere. Non è particolarmente duro l'ex sindaco Roibiasi, che ha voluto smontare quelle patenti di moralità che erano arrivate nelle settimane scorse dalla maggioranza. Primo di ogni cosa, dice Roibiasi, il ministro dell'interno dovrà darci delle risposte del perché Falleti non è stato ancora indagato. Non sopporto chi commette errori e poi si erge a Verginella. Altre amministrazioni sono state sciolte per mafia per fatti meno gravi. Oggi però daremo testimonianza della responsabilità della minoranza. Gli altri consiglieri di opposizione, Raffaele Scarfò, Cettina Nicolosi, hanno auspicato che la giustizia possa fare il proprio corso e dirimere la torbida questione, mentre Maria Stella Morabito voleva che Falleti ci mettesse alla faccia dinanzi all'aula consigliare. La discussione sulle vicende extra-politiche ha lasciato spazio poi ai lavori dell'aula. Il sindaco ha messo in risalto la programmazione e le risorse impiegate per le opere pubbliche e l'assunzione di 31 nuove unità, tra cui 19 lavoratori ex-LSUL+. Aspetto questo che ha portato il consigliere sposato a votare favorevolmente i due punti, consigliando inoltre all'amministrazione locale di evitare la nomina dei due assessori e impegnare i soldi per aspetti prioritari alla comunità, Lazzaro Scarfò, Biasi, Perri, Morabito e Nicolosi, lamentando comunque a vario titolo perplessità su alcuni aspetti inseriti nelle varie voci del DUP e bilancio, hanno voluto mettere in risalto l'atto di coraggio degli avversari politici di dar fiducia ad una maggioranza che, tra carte d'inchiesta e malumore dei cittadini, dovrebbe riflettere sulla possibilità di porre fine al cammino amministrativo e restituire la parola alle urne. Il documento è poi passato con 13 voti a favore e le astenzioni dei consiglieri Morabito, Versace e Nicolosi.